L'attività che stiamo conducendo è mirata ad avere rapidamente una mappatura di quello che è lo stato delle facciate, soprattutto degli edifici, relativamente alle difettosità. Qual è il problema con riferimento all'emergenza Campi-Fregrei? Che andando a utilizzare queste strade per i movimenti durante le emergenze, chiaramente si vuole essere sicuri che le difettosità non determinano poi i crolli sulle persone che si stanno muovendo nell'ambito viario. Noi raccoglieremo questi dati con i droni, faremo delle elaborazioni di questi dati con opportuni software. Questi software ci daranno poi la valutazione dell'indice di pericolosità. Noi definiremo una relazione ai vari comuni e anche alla protezione civile che indica quanto è pericoloso muoversi su ogni strada. Questo è il fine, quindi è un fine di protezione della popolazione nell'ambito dell'emergenza. assolutamente tutti i dati acquisiti, le immagini saranno anonime e saranno aggregate. Abbiamo attraverso uno studio che è durato molti anni individuato il bradisismo come un rischio atipico, cioè un rischio che è caratterizzato da un sistema di deformazione della terra associato a dei terremoti di bassa intensità ma di alta frequenza. Questa peculiarità ha fatto sì che il bradisismo impatti sul sistema edilizio e infrastrutturale in maniera assolutamente diversa da tutti gli altri scenari di rischio, compreso quello sismico tradizionale legato appunto alle norme tecniche di attuazione, e che coinvolga in questa fase principalmente tutti quanti gli elementi fragili, cioè quelli più vulnerabili degli edifici. Quelli più vulnerabili sono certamente tutti quelli della facciata e quindi intonaci, cornicioni, balconi, molto più di quanto non faccia sugli elementi strutturali che di per loro hanno una maggiore dottilità. Questa cosa chiaramente ci dà una mappatura molto più efficiente e molto più adeguata. Sono esperienze che si fanno già a livello internazionale in aree che hanno rischi simili al nostro, quale è il Giappone, quindi stiamo cercando di utilizzare anche qui, che è un'area di massima allerta mondiale relativamente a questa cosa, questo tipo di tecnologia. Non sarà un'attività mirata al singolo edificio, ma a quella che in terminologia tecnica si chiama cortina edilizia, cioè una serie di edifici che insiste sulla strada. Noi fondamentalmente vogliamo riferire agli amministratori, quindi vari comuni che sono coinvolti nell'attività, comune di Napoli, ma anche comuni di Pozzuoli e comuni di Bacoli che sono nell'area di emergenza, dare uno strumento per valutare quanto è pericoloso muoversi lungo un asse viario. Quello che stiamo vedendo in questo momento è proprio il rilievo fotogrammetrico e termico di tutte le cortine edilizie che ci consente di capire qual è lo stato di manutenzione in questo momento per poterne valutare la vulnerabilità. Questi dati rilevati dal CESMA saranno poi elaborati ancora dal DICEA e dal Politecnico di Bari, con responsabile scientifico il professore Fatiguso, che cercherà di addestrare un algoritmo affinché tutte queste attività che stiamo svolgendo possano poi essere sviluppate in maniera automatizzata. I droni hanno due camere, una nel visibile e una nell'infrarosso e proprio la camera nell'infrarosso ci dà il valore aggiunto. Qual è il vantaggio? Quello di usare i droni è quello di fare questi rilievi in maniera rapida, speditiva e quindi riusciamo molto più rapidamente che se lo facessimo con altri strumenti a completare questa operazione di mappatura, ma è anche quello di usare camere speciali, quali le camere nell'infrarosso che vedono difetti che noi ad occhio nudo non riusciamo a vedere perché sono legati a variazioni di temperatura della superficie della facciata. I scarti termici possono indicare per esempio il distacco di parte della facciata rispetto alla struttura che c'è dietro e che non si vede in alcuni casi ad occhio perché è un distacco complessivo, che non produce fessurazioni, ma che invece è rilevato nel termico perché chiaramente cambia la temperatura rispetto se un elemento di facciata è o meno attaccato allo sfondo. Vediamo quindi volare dei droni che rilevano le nostre facciate attraverso cui noi potremmo fare poi una valutazione della vulnerabilità e capire cosa poi proporre alle amministrazioni per ridurre la vulnerabilità degli ambiti urbani e aumentare la resilienza delle città che deve essere l'obiettivo principale per poter garantire alla popolazione di convivere col fenomeno bradisismico in maniera molto più serena di quanto non si stia facendo attualmente.